Eccoci qui, come state ben ritrovati, un saluto a tutti, mi raccomando commentate numerosi, lasciate un like, iscrivetevi da questa parte, attivate anche la campanella, puntiamo i 104 mila iscritti. Vi chiedo un piacere personale, iscrivetevi al mio canale personale qui sotto vi metto il link, con breaking news prevalentemente di Milan, notizie che magari qui non riesco a dare in tempo diretto, in tempo live. Qui sotto potete andare a iscrivervi e tornare, grazie per chi lo ha già fatto e grazie per chi lo fa nel corso di questo video. Allora, ieri ripetiamo una buona vittoria, anche se l'Empoli è poca roba, però anche contro squadre è poca roba, abbiamo fatto fatica quest'anno, non sempre abbiamo raccolto punti e c'è da mangiarsi le mani per dei punti buttati via, però insomma cerchiamo di guardare avanti. Prendiamoci il clean sheet, la buona prova in controllo, a parte magari ripeto 5-10 minuti tra il sessantesimo e il settantesimo, ma anche lì poca roba. Prendiamoci la vittoria in trasferta dopo tre mesi, altri due gol dal mercato, nel senso uno lo fa fare Pulisic un assist e l'altro lo fa Loftus-Cheek un gol. Detto questo c'è una novità molto importante, c'è una bomba di mercato perché viene accostato al Milan un giocatore per il quale io stravedo e secondo me sarebbe un colpo top, top, top. Partiamo subito perché ci sono tante le vittà su più fronti. Innanzitutto ha parlato il presidente del CONI, Malagò, sul decreto crescita, sperando che davvero si possa aprire a breve un tavolo tecnico-politico per reintrodurlo, modulandolo diversamente, soltanto per chi ha i pagamenti in regola, non ha debiti, magari oltre a una certa soglia. Ecco, il presidente del CONI dice Quindi speriamo, ripeto, che si possa aprire un dialogo, visto che il Milan ha attinto molto dal mercato estero, sfruttando appunto il decreto crescita, che ad esempio, una volta abolito, ha già cambiato alcune linee guida. Anche per questo, ad esempio, il Milan si è molto allontanato perché il Milan era molto vantaggioso col decreto crescita. Senza decreto crescita, quindi a parità di condizioni, il Milan potrà guardare anche ad altri profili e guarderà anche ad altri profili. Detto questo, andiamo poi sulle ulteriori novità molto, molto, molto interessanti. Allora, innanzitutto, diciamo che, per quanto riguarda i Menez, ci sono delle novità. I Menez, che anche ieri è entrato e ha fatto, secondo me, un'ora di gioco molto buona. Volevo magari rappresentarvele. Poi veniamo alla bomba di mercato. Mamma mia, speriamo. Discrivo tutti l'altezza 1,71. A me non sembra 1,71 quando scende in campo. Mi sembra almeno un'ottanta, ho questa sensazione. Detto questo, la partita di ieri in campionato, 55 minuti, esordio in campionato, un passaggio chiave, 88% passaggi riusciti, una palla lunga riuscita, un cross riuscito, quello a Leao, che poi sforbicia, due takel, una palla recuperata, un salvataggio, 30% duelli vinti, a terra sono il 30% aerei, non ne ha fatti, 6 palle perse, 2 falli fatti, un giallo, un fallo subito. Partita molto buona, di personalità, prima sulla fascia sinistra, poi sulla fascia destra. Detto questo, il Milan lo riscatterà. Però la novità di oggi è che il Milan vuole, sta parlando con i Real Madrid, per provare a rimodulare un po' il prestito. Prima vi faccio vedere questa azione che è clamorosa. Guardate, fatemi togliere la suoneria che dà fastidio, c'è la suoneria, l'audio. Guardate qui questa azione che fa, guardate, parte davanti alla nostra area. Pam, e va, 1, 2, 3, via, caparbi, 4, porta, 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 e poi la dà a Rafa. Si fa tutto il campo clamoroso, un 18enne che all'esordio si permette di fare una cosa del genere rischiosa, perché davanti alla nostra area devi stare magari un po' più cauto, però dimostra che è una personalità incredibile, che ha una tecnica pazzesca, e che è uno che, guardando la porta avversaria negli occhi, va, va, va. Sembra Leao, scusate, sembra Teo con caratteristiche fisiche diverse, un'esuberanza fisica diversa, però ha un'ottima tecnica di base e coraggio, coraggio. Lo vedo, a me non sembra 1,71, poi l'importante è che sia bravo, però mi sembra più verso l'1,80, ecco. Detto questo, il Milan vorrebbe non pagarlo 5, è una proposta che sta facendo a Real Madrid, e si è aperto un dialogo, non pagarlo 5, pagarlo un po' meno, in estate, ma rimodulare un po', mettendo dei bonus, cioè, se gioca, ti do dei bonus, e alla fine tu, Real, potresti incassare anche più di 5 milioni di euro, arrivare magari a 6 o 7, con il fatto che, così facendo, per questa sessione ti impegni magari a pagarlo, che ne so, 2 milioni e mezzo, 3. Poi, se va bene, hai un pagamento che è dilazionato, hai un giocatore che è valorizzato, magari mettendo dentro, a quel punto, un valore di riscatto di Real Madrid, già che ci sei, più alto rispetto a quello concordato, che non è stato comunicato né da uno né dall'altro club, ma che dovrebbe essere comunque sulla doppia cifra, 10 milioni, primo anno, 2025, qualcosa di più, 2026. Se si parla, si possono trovare magari soluzioni diverse, il giocatore sicuramente resterà, non ho dubbi su questo, però magari risparmi qualcosina, e provi a avere qualcosa di diverso in caso di contro riscatto del Real, o magari ingolosire il Real, perché alla fine non te lo pago più 5, ma in caso 7-8, magari ti accontenti di quei soldi e me lo lasci qui. Insomma, sicuramente ci dite una strategia. Prendiamolo, teniamolo sul prossimo anno, giocatore estremamente interessante che può giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra. Pensando, ecco, a quella fascia lì, a quel tipo di giocatore, a me piaceva tantissimo, anche se all'inizio aveva fatto estremamente fatica, Diogo Dalot, che per me era un gran bel giocatore. Secondo me lui è un gran bel giovane e diventerà un gran bel giocatore. Detto questo, ci spostiamo poi sul mercato di entrata per gennaio, dove, quando, a gennaio meglio, ci sono ovviamente altre operazioni che faremo. C'è la questione difensore. Kier sta facendo davvero molto bene, il discorso con il Fenerbahce lo scartiamo. Kier resta al Mina per i prossimi sei mesi e chiuderà la carriera rossonera nei prossimi sei mesi, poi probabilmente andrà altrove, magari in Turchia al Fenerbahce. Detto questo, c'è sicuramente Simic, c'è Teo che sta facendo ruoli, interpretandolo, devo dire, molto bene. Non me lo aspettavo. E poi, adesso c'è anche Gabbia. Rottomori rientra tra un mese e mezzo abbondante, tra marzo e aprile, Ciao e Calulu, così assenti da troppo tempo, ci metteranno anche un po' a ritrovare fiducia, condizione e ritmo. Il difensore è il grande obiettivo per questa sessione di mercato. Allora, sappiamo di Brassier del Nizza, scusate, Brassier del Brest, cui Milan pensa, come ha messo anche ieri, da Moncada, lo seguono da cinque anni. Profilo mancino, quindi perfetto per caratteristiche, che può fare anche il terzino sinistro, piace molto anche al Monaco, c'è anche qualche altro club. il Milan aspetta e valuta, la sensazione che non sia l'unico vero obiettivo. Di fatto anche Moncada ha parlato di shortlist. Dalla Francia ieri sera parlavano di Todibaut, ex Barca, oggi al Nizza. Profilo interessante, accostato anche in passato al Milan. Però c'è un però, c'è la novità di questa mattina, che io definisco clamorosa, perché è un giocatore per il quale stravedo, che secondo me è davvero forte, se c'è una possibilità di prenderlo, questa è a gennaio, credo, e non te la devi lasciare scappare. è un giocatore che tra l'altro milita già nel campionato italiano e poi credo anche che sia un giocatore che possa essere considerato prodotto dei settori giovani italiani, quindi che si può iscrivere nella lista italiana. Sto parlando di Radu Dragosin. rumeno, 21 anni, 1,91, 2027 scadenza, Profilo, che piace molto al Napoli, piace molto al Tottenham, il suo agente, lo sapete, ve l'ho detto, noi siamo stati i primi a parlare di Dragosin qualche mese fa, credo che fosse ottobre, il suo agente la scorsa settimana ha detto Tottenham, vediamo, deve trovare l'accordo, piace anche al Milan, attenzione, perché Repubblica, inviato Genova, e Genoa, scrive oggi che il Milan è passato in pole position per Dragosin, un sorpasso rispetto al Napoli, non viene citato il Tottenham, Targato Colombo, Lollo Colombo, l'attaccante di proprietà rossonera in presito al Monza, piace molto al club rosso-blu, potrebbe essere girato come contropartita, mentre il Napoli offre i meno interessanti Demme e Zerbine per abbassare la valutazione, quindi, secondo il collega molto vicino a Genoa, il Tottenham pare essere una pista così non calda, però io rimango prudente, perché magari pomeriggio lo compra il Tottenham, spero tanto di no, è chiaro che adesso la fiammela di speranza ce l'ho, il Napoli oltre ad avere un progetto inferiore rispetto a quello del Milan, è una situazione oggi molto complicata, offrirebbe come contropartita Demme e Zerbine in Milan potrebbe offrire Colombo che è un profilo al quale ragionando insieme a Voce Alta si può pensare di fare plus valenza e contropartita Dragosin è un giocatore che per me è davvero forte tra l'altro è insuperabile sulle palle alte dietro è roccioso è fisico è aggressivo è preparato ed è insuperabile sulle palle alte anche in attacco ha fatto due gol quest'anno un assist in 19 partite lo scorso anni Srebbero ha fatto quattro reti profilo estremamente valido seppur il piede preferito sia il destro Dragosin andato a vedere un po' la stagione cari amici vedendo un po' i numeri ha giocato anche sul centro-sinistra ha fatto vediamo un attimo un'occasione creata due gole in area uno di testa uno di destro un assist 50 tocchi a partita 83% passaggi riusciti 0,4 passaggi chiave 3 clean sheet 1,1 intercetti a partita 0,8 take la partita 3,3 palle recuperate a partita 4,6 salvataggi a partita 67% duelli vinti di cui 70% duelli aere vinti è una media altissima una delle più alte che ho mai nominato qui su YouTube 0,7 falli 1 giallo 0 rossi profilo che conosce già il campionato italiano e che per me è davvero bravo 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 cresciuto nella Juventus che l'ha ceduto perché aveva bisogno di soldi bravo il Genoa valutazione 25 ecco ricordiamo che a loro abbiamo dato anche Messias si può ragionare perché no magari su qualche profilo dei giovani i nostri giovani perché no se adesso rientra come rientra il buono Caffor Ciacca Traore potrebbe essere un'opportunità per loro va anche a giocare visto che adesso potrebbe giocare un po' di meno e Lorenzo Colombo un sacrificio che secondo me potrebbe essere anche fatto Dragusin per me sarebbe tra i vari nomi accostati probabilmente il top e andrebbe a prendere il posto di Kier che ovviamente in estate finirà la sua avventura al Milan ci spero tantissimo rimango con i piedi per terra l'iscrizione però autorevole e spero tanto che si possa fare questo colpaccio Repubblica dice che il Milan è in pole ma magari ragazzi Dragusin Tomori Kalulu ciao più dietro anche altre possibilità top top sarebbe un colpo pazzesco ditemi che ne pensate commentate numerosi qui sotto lasciate un like iscrivetevi da questa parte semate il Milan e iscrivetevi anche al mio canale personale vi metto qui sotto il link grazie per chi lo farà arriviamo presto 20.000 iscritti Dragusin top commentate tutto mi raccomando e un buon proseguimento di giornata ciao a tutti